Il primo gregante è stato sospeso dal Partito Democratico, se fosse stato permesso sarebbe stato addirittura espulso. Ora? Sì, esatto. Però era stato riscritto al Partito Democratico, no? Si era riscritto al Partito Democratico, è stato sospeso, le ripeto, io non avrei avuto nessun tipo di problema a prevedere addirittura l'espulsione. Ritengo che debba essere assolutamente punito, non credo che questa vicenda possa portare riflessi sul Partito Democratico perché le dico subito e molto francamente che il primo gregante non ha nessun incarico dirigenziale all'interno del Partito Democratico e credo che il Partito Democratico in questa vicenda non c'entri assolutamente niente. Escludo categoricamente che il Presidente Berlusconi, o Arcore così inteso, possa essere intervenuto in una questione di appalti pubblici. Uno perché forse c'è qualche processo un po' più importante a cui pensare, non credo che si sarebbe mai andato a impelagare anche semplicemente per un minimo di intelligenza rispetto a queste cose e credo che lo possa capire l'universo non mai conosciuto. Gian Stefano Frigerio, non so se lei ha mai conosciuto primo greganti, in ogni modo noi non abbiamo niente a che spartire quindi per questo dico che il mio partito, il mio movimento oggi non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto. Il vecchio e il nuovo nei partiti convive molto... Guardi, ribadisco, io sono in Forza Italia dal 1994, avevo 26 anni quando mi sono iscritta, anzi, per la verità, 25. Io non ho mai conosciuto Gian Stefano Frigerio, lo ribadisco perché sia ben chiaro, per far capire che non ha mai girato nelle stanze del partito, poi con qualcuno sicuramente avrà avuto contatti. Allora, i fatti, i fatti, poi dibattiamo su quello che vogliamo, i fatti prima che riguardano greganti e poi riguardano Gian Stefano Frigerio. Che non riguardano però il partito. E poi riguardano i fatti, poi commentiamo come si vuole, greganti che sicuramente loro non hanno conosciuto, dopo essere stato condannato per mani pulite, viene riscritto al PD, lo vedono tra i banchetti della festa nazionale del PD a Torino, gli fanno vendere le coccarde, non è bello far vendere le coccarde di un partito a un tangentista, scende in campo Chiamparino in una grande convention e arriva a greganti, Fassino fa di più, quando si candida alle elezioni a sindaco di Torino, chi si sceglie come garante del suo comitato elettorale? Un signore che si chiama Quagliotti, chi era Quagliotti? Erano in due all'epoca, era un coimputato di greganti condannato con lui, avevano due conti esteri, uno si chiamava Gabbietta e l'altro Idea, Gabbietta era di greganti, Idea era di quagliotti, Quagliotti viene condannato a sei mesi, lo recuperano dopo quindici anni, chissà perché, e fa capo del comitato dei garanti alla campagna elettorale di Fassino, e siede nella segretaria regionale del PD, io penso che lei è giovane e dovrebbe dire abbiamo una responsabilità politica, non ce l'ho io, ce l'hanno i miei vecchi, voglio chiarire queste storie, perché se succede una roba del genere, se sei rimasto coinvolto in un'inchiesta per tangenti, non si capisce perché un partito dopo ti debba riprendere, se sei riabilitato fai un altro lavoro. Il suo amico Frigelio, il suo non amico Frigelio, viene condannato a sette anni per una sfilza di reati impressionanti, durare in mani puliti, ha preso tangenti da tutti, concussione, corruzione, turbativa d'asta, sette anni, ha preso anche 150 milioni di euro che partivano da Paolo Berlusconi per una discarica che finiscono a lui. Con condanna definitiva nel 2006, Forza Italia, Berlusconi, lo prende, gli cambia nome, sulla scheda elettorale non c'è più scritto già Stefano Frigelio, invece c'è scritto Carlo Frigelio. Lo mette nel listino bloccato in un'altra regione, lo fai leggere in Parlamento il giorno in cui Casini, presidente della Camera, si appella alla Madonna di San Luca e apre la Camera, arrivano i carabinieri e portano Frigelio a San Vittore, perché la condanna era diventata definitiva, era uno dei protagonisti di mani pulite, ma non solo. Dopodiché a questo signore, al contrario di Berlusconi, che ha avuto sfortuna, gli dicono tu non decadi dal Parlamento. Ha scontato la condanna, non l'hanno fatto decadere dal Parlamento perché il Parlamento si è un po' dimenticato di esaminare il suo caso e i suoi servizi sociali non li ha fatto tra i malati di Alzheimer, ma qua andava alla libreria della Camera. Allora, vogliamo dire che almeno dalla parte vecchia dei vostri partiti c'è un'enorme responsabilità politica e che questa gente si accreditava perché aveva contatti attuali con alcuni vertici dei vostri partiti, perché se non diciamo questa cosa ci raccontiamo balle e diciamo che siete uguali agli altri.